Ed eccoci nuovamente qua a parlarvi della nuova edizione del Grande Fratello VIP. In quanto la settima edizione si è appena concluso e si sente parlare di già eppure molto della nuova edizione. In particolare c'è veramente molto incertezza sulla nuova edizione che sta per cominciare. Probabilmente il tutto dettato da quanto accaduto in questa ultima edizione del programma dove sinceramente sono successe molte cose. A tal punto che ad un certo punto visto la piega che stava prendendo la trasmissione l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è visto costretto a richiamare gli autori del programma e lo stesso Signorini ad una conduzione più consona con il programma in prima serata di Mediaset. Insomma è apparso chiaro a tutti che si stava eccedendo. Oltretutto a seguito di questo richiamo ufficiale da parte dell'amministratore due concorrenti sono stati anche squalificati. Non vi parliamo di una squalifica diretta, ma di una squalifica indiretta viste le nuove direttive intraprese. Ovviamente vi stiamo parlando di Edoardo Donnamaria che si è poi fidanzato fuori con Antonella Fiordelisi e di Daniele Dal Moro che poi si è fidanzato con Oriana Marzoli. Ma probabilmente a fronte di tutto quello che vi abbiamo raccontato nel web hanno iniziato a circolare voci, senza nessuna conferma ufficiale che nella prossima edizione ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione. Infatti si parlava di un'edizione totalmente differente. Un addio all'edizione VIP del programma ed un ritorno ad un'edizione NIP. Oggettivamente un ritorno anche complicato in quanto è evidente che l'edizione VIP ha dei problemi di ascolto, quindi probabilmente l'edizione NIP ne avrebbe anche di più. E si legge anche di un'edizione molto ridotta, insomma massimo tre mesi. Questa ultima edizione è invece durata sette mesi. Alfonso Signorini fa chiarezza sulla prossima edizione del Grande Fratello. A fare chiarezza è intervenuto Alfonso Signorini ultimo conduttore del GF VIP 7 e nuovo conduttore della prossima edizione, che ha specificato che sul tipo di format che vedremo il prossimo anno ancora dei piani alti di Mediaset non gli è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Insomma se non ne sa nulla lui.